che fine fanno le case al centro della cronaca i luoghi dove sono stati consumati delitti vendute a volte affittate o in alcuni casi diventate meta di turismo macabro vediamo il servizio dell'inviata anna milan quel cortile di erba dopo la strage che paralizzò l'italia era al 2006 oggi in quella casa è tutto cambiato carlo castagna che perse figlia moglie nipote affidò le chiavi alla caritas aveva pensato di fare una cosa buona trasformando quella che era diventata un po la casa tragica quindi un luogo di tenebre in luogo di luce luogo di accoglienza case dei delitti che diventano tutt'altro meta del turismo dell'orrore immobili da affittare in via poma dove simonetta cesaroni fu uccisa ecco una casa vacanze viene tanta gente tanti non lo sanno forse vengono anche quelli perché c'è il turismo del come si chiama degli delitti degli luoghi oscuri come nella casa di perugia dell'omicidio meredith venduta a prezzo ribassato la villetta di cogna invece resta la famiglia franzoni ma il suo avvocato ne ottenne il pignoramento ma poi è intervenuto un accordo nel senso che la famiglia franzoni ha provveduto al pagamento di quanto da me richiesto affidata al comune di san casciano invece casa pacciani nessuno chiese mai di comprarla si gestisce non facilmente perché molto spesso il potenziale acquirente cerca di sfuggire da quello che possono essere riflettori il consiglio che potrei dare era effettivamente cercare di stravolgere quello che è la situazione di quelli immobili cambiandolo completamente silenzio sull'ultimo compratore della villa nascosta là dietro quella del massacro del cerceo